Vedere chiuso questo impianto per noi era una pena, siamo riusciti finalmente a rimetterlo in sesto, a renderlo operativo e quindi fruibile in maniera ottimale nelle condizioni in cui si trova per l'utenza. La gestione avviene in house, cioè città metropolitana stessa che la gestisce, però avvalendosi una società anche in house, quindi interamente partecipata, che è Palermo Energia. Ieri sono terminati i collaudi e oggi? Oggi abbiamo riaperto perché tutte le procedure di collaudo e tutte le autorizzazioni amministrative sono oramai acquisite. Tre anni di attesa perché abbiamo avuto due anni di Covid, un anno perché abbiamo avuto delle problematiche con il vecchio gestore, raggiunto il quale in tre mesi e mezzo, quattro mesi si è riuscita a rimettere in funzione un impianto che doveva essere verificato da capo. La seggiovia serve, che sarebbe questa qua di fronte, serve in particolar modo due piste, una pista nera che è la marmotta e una pista blu che è lo sparviero. Poi è lo scoiattolo perché si dirama. Lo scoiattolo sarebbe il tratto finale della mollica che viene servito anche dalla sciovia. Mentre per i principianti, chiamiamoli così, c'è questo tapirulane che serve il campo scuola, che sarebbe il campo marmotta, che permette con l'ausilio dei maestri di sci di prendere lezioni di sci per i principianti. Grazie alla volontà del professore Lagalla che ha creduto in questa iniziativa, noi tutti con la parte operativa ci siamo adoperati affinché questo potesse accadere. Il percorso è stato abbastanza arduo, difficile, però credo che il risultato che si può vedere oggi è la gioia per noi tutti. Diciamo che sì, non c'è tanto inverno davanti, però noi riteniamo, nel senso che anche la direzione della città metropolitana ritiene questo un percorso che sta iniziando adesso, quindi c'è la parte estiva, ci sarà poi la parte invernale, una volta avviata la macchina diciamo che sarà abbastanza difficile fermarla. Siamo saliti in cima a Montemufara, siamo a 1800 metri, qui c'è l'arrivo da dove poi gli sciatori, gli appassionati degli sporti invernali cominciano la sciata. Come avviene poi la manutenzione la sera? C'è il servizio di manutenzione delle piste, ogni sera alla chiusura dell'impianto fanno la ricognizione delle piste con il mezzo del battipiste adatto, rimettono in sesto le pendenze, i tratti con meno neve per poi rendere la pista usufruibile l'indomani. La capacità della seggiovia Mufara è di poter portare fino a 855 utenti ora, da qua una volta giunti gli sciatori si sganciano dalla stazione d'arrivo e incominciano a scendere in questo pianoro per poi intercettare, ci sono due uscite, una per la marmotta e prolungandosi sul sentiero incontrano la seconda uscita che permette di prendere la pista blu dello Sparviero e arrivare fino alla stazione di valle degli impianti. Io sono Sergio Tuminello, vecchio appassionato delle madonie, veniamo da tanti anni, dobbiamo fare i complimenti a chi si è adoperato per riaprire, a tutti, quelli che si sono adoperati per riaprire questo piccolo gioiellino delle madonie che abbiamo. Le piste sono fatte molto bene, hanno fatto tutte le barriere, le norme di sicurezza, la neve è bella, siamo un'ora di strada dalla città, il sole è caldo, è meraviglioso, quindi io penso che ci possiamo veramente godere questo piccolo paradiso che abbiamo in Sicilia. Un altro veterano, erano gli anni 60. Erano gli anni 60 quando ho cominciato a frequentare Piano Battaglia, ricordo che c'erano gli scarponi di pelle e gli attacchi a molla attirante. Comunque Piano Battaglia è sempre stato bellissimo e mi associo alle parole di Sergio che grazie a tutti sinceramente per averci permesso e continuare a permetterci di sciare e di godere di questo bellissimo posto.